Giuseppe Menduria Orgogliosi sostenitori dell'autentico Made in Italy, cresciamo giorno per giorno, in carico dopo in carico. Ci piace pensare che la perfezione è sempre un passo avanti a noi e che inseguirla costantemente rende tutto migliore. Serramenti in alluminio e lavorazioni in ferro sono il nostro grande contributo che offriamo ogni giorno a casa, in figi, a strutture di ogni genere. La tenacia è certamente il fattore dominante che ci ha condotto fin qui. Ci siamo impegnati davvero tanto, affinché l'infisso diventasse anche arredo. Serramenti in alluminio, infissi a taglio termico certificati, con elevato isolamento sia termico che acustico, infissi in legno alluminio, lavorazioni artigianali di ferro battuto, esposizione di porte pile, scrigna, isomax e dr per interno ed esterno. Curiamo ogni richiesta dalla progettazione alla realizzazione finale, passando da uno studio accurato delle esigenze di ogni singolo cliente. Serramenti Mendolia Proteggiamo ciò che ami di più. Proteggiamo ciò che ragazze magari per la virgulione Khentina Grazie a tutti.